A Roma come a Parigi per la prima del Cardinale, l'avvocato Eitel Monaco, il presidente dell'Agis Italo Gemini e tutte le grandi firme dello schermo, da Elsa Martinelli a Gina Lollo Brigida. La Lollo cerca il marito, lo ha perso di vista nel caotico traffico di Roma ed ora è costretta ad entrare in sala scortata da un cavaliere di emergenza. Chissà quanto ci ricameranno sopra i giornalisti francesi. Silva Coscina trova fuoco dappertutto. Mentre Carla Del Poggio e Lattuada osservano la nuova accompagnatrice di Vittorio Gasman. È la prossima Ophelia o una futura tesdemona? Rossano Brazzi che ne dice? Il film diretto da Otto Preminger si avvale dell'interpretazione di attori quali John Huston, Rafa Vallone, Varges Meredith e la bellissima Romy Schneider.